Iniziamo qui oggi, 21 aprile 2019, nella ricorrenza della nascita di Roma. Come voi amici sapete, noi abbiamo preso questa bellissima abitudine di fare un'ascesa, nel vero senso della parola, perché mi viene sempre in mente Jodorowsky, il monte santo, dice Jodorowsky. Però questo è il monte sacro, è veramente il monte sacro. Equivale al sacro monte giapponese, dove si ascende per una ascesi mistica. Nel caso particolare, questa mistica è una mistica religiosa e contemporaneamente politica, perché la caratteristica fondamentale della cultura classica, della romanità, nella sua declinazione romana, è l'identificazione di religione con il culto dell'urde. Quindi noi abbiamo una tradizione, poi ripresa sostanzialmente da Dante, perché che cos'è la Divina Commedia se non è un mito soprattutto politico? Cioè un'esaltazione esoterico-religiosa della politica, laddove le figure più importanti di Dante sono gli uomini politici, ma non sono i pretacci. Ma Dante non è solo, c'è anche Petrarca. E in quella tradizione ci possiamo mettere anche il Machiavelli, perché è una visione che è tipica della romanità, è quello che noi vogliamo recuperare. Quindi inizia qui l'ascesa, non a caso, al Monte Sacro. Voglio far vedere alcune stampe di questo bellissimo ponte. Eccolo qua. Che sta soprattutto ad indicare, eccola qua, un retaggio chiaramente medievale. Noi partiamo da qui, eccolo qua. Noi partiamo, attraversiamo il ponte. Allora, simbolicamente, e l'altro giorno relativamente a uno strano incendio che è avvenuto nel cuore, così dicono, religioso della laica Francia, dove però i gilet gialli hanno mangiato la foglia e hanno dichiarato in maniera molto chiara ieri che certe provocazioni non le accettano. L'altro giorno ho detto che la storia dell'uomo è una storia simbolica, cioè se elimini dalla storia umana il simbolo hai eliminato tutto. Quindi noi simbolicamente siamo qui, perché simbolicamente dobbiamo attraversare questo ponte, che non a caso è un residuo medievale di grandissima importanza, perché noi attraversiamo questo periodo storico importantissimo per poi arrivare in un altro periodo che è ancora molto precedente e salire al Montesacro. Qui è rimasto, si è pure in maniera piuttosto attenuata, ma un quadro medievale eccezionale. E non a caso abbiamo scelto appunto perché è... Qui manca solo Carondimonio, capito, per passare dall'altra parte, anche quest'altra è bellissima, la vegetazione è eccezionale. E' strano che nel cuore di Roma ci siano ancora degli spettacoli di questo tipo. Questo è l'ingresso, ce ne sono due ovviamente, c'è una più importante di là, dove al suo tempo siamo stati attaccati da un nugolo di Lemuri. Chi è interessato può vedere benissimo la vicenda, perché stavamo facendo un filmato come questo, alla fine siamo stati attaccati dalle scimmie. E quindi si è visto, abbiamo chiamato la polizia, è successo un mezzo casino. In ogni caso, questo è l'ingresso per l'ascesa. Io vorrei ripetere il valore simbolico della frase. Il Monte Sacro è stato il primo Monte Sacro della storia, è evidente. Vedi caso, vedi caso, si chiamava Monte Sacro, laddove si è radunata la plebe e poi sono avvenuti degli avvenimenti storici di valore incommensurabile. Perché è qui che c'è stata la ribellione della plebe, ma c'è stato anche Menenio a Grippa, che sono concetti che sono rimasti nella storia dell'umanità, anche se si cerca in tutte le maniere di dimenticarli. Comunque, qui inizia l'ascesa e noi possiamo dire tranquillamente ascesa al Monte Sacro. Con il massimo rispetto per Iodorowsky, comunque in ogni caso. E ricordate il bellissimo film che mi colpì, dove alla fine quando loro arrivano in cima alla montagna, la montagna erutta un'enorme quantità di sperma. E quindi questo è un concetto eccezionale, tipico di un grandissimo artista, che proveniva dall'ambiente artistico di quel momento, tra l'espressionismo e tutte quelle forme di vario tipo che hanno rappresentato quell'enorme crogiolo del Novecento che ancora deve essere esplorato. e quindi qui ci sono stati, che sono stati, che sono stati, che sono stati, che sono stati, Perché poi ci sarà Sivald che dirà una sua cosa Lui è molto attento a non sgarrare A non cogliere il momento opportuno per dire certi concetti Che peraltro sono assolutamente profondi Mi ha fatto piacere che ha ricordato un aspetto importantissimo del Giappone E delle due anime del Giappone Lui ha detto prima mentre stavamo salendo Una frase interessantissima Che è venuta a confermare Perché io quando sono stato del Giappone Tu sei bene che io sono stato E sono andato proprio a vedere certe fabbriche di certi templi Che è una meraviglia vederle Come vengono coltivate le piante Che devono essere centenarie E più che centenarie Io ho visto delle piante millenarie Che sono tenute lì pronte Per poter essere lavorate E ricostituire il tempio Che è obiettivamente una cosa importantissima Ripeto, Sivalda ci ha detto una cosa importante Sulle due nature giapponesi Dell'oscillazione, diciamo così Del modo di essere giapponese Tra le due quelle che noi chiamiamo religioni Per loro è una mentalità, un modo di essere E di contenersi e comportarsi I templi sono uguali Il tempio buddista giapponese È uguale a altri templi E io ci ho fatto un bel giro E l'ho visto Per cui la cultura è una sola Nelle sue varianti Che sono legate anche Al livello di accettazione Delle altrui culture Che viene accettato Però fatto proprio Secondo il mio modesto avviso Un criterio che è tipicamente romano In questo senso Io vorrei anche questa volta Fare una lettura significativa Del ruolo, del significato E del perché noi siamo qui Allora mi si dirà Siete in pochi E vabbè Meglio pochi Ma buoni Che molti Ma coglioni D'altronde Quando Simon Bolivar Venne qui In pieno agosto Del 1805 Era lui un amico Vi faccio vedere Un quadro Di Simon Bolivar Da giovane Questo praticamente È quello che resta Di un monumento Che viene lasciato Così al suo destino Siamo venuti L'anno passato Quelle macchie Sul volto Sono rimaste Nessuno ha mai pensato Di venire a fare qualcosa E a me Francamente Mi dispiace Visto la grande importanza Che negli anni Trenta Del Novecento Fu data Proprio a questo avvenimento Altevero che qui In questa area Parteciparono Mi pare Cinque Se non di più Ambasciatori Delle patrie Bolivariane Di tutte le patrie Bolivariane E io ho in questo Testo Tutto quello Che fu detto In ogni caso Siccome a me interessa Particolarmente Mi tieni questo Grazie Mi interessa Particolarmente Parlare Della secessione Diamo alcune informazioni Perché è chiaro Che della secessione Non parla Mai più Nessuno Anche perché La secessione Comporta Una visione Organica Della società Non è un caso Che noi veniamo qui Perché è qui Che Melenio Agrippa Ha lanciato Ha istituzionalizzato Il concetto Di società organiche Quindi Non è uno scherzo Comunque Leggiamo qualcosa Leggiamo una frase Niente meno Che di un nostro Grande maestro Che è Niccolò Machiavelli Quali accidenti Facessero creare In Roma I tribuni Della plebe Il che fece La repubblica Più perfetta E però Dopo molte Confusioni Romori E pericoli Di scandoli Che nacquero Intra la plebe E la nobiltà Si venne Per sicurtà Della plebe Alla creazione Dei tribuni Che è stato Uno dei più grandi Creazioni Della storia Dell'umanità E questo concetto Di diarchia È un concetto Che noi dobbiamo fare Nostro Proprio Della nostra Scelta politica Non potremo Mai Pensare Un sistema Politico Che non si Caratterizzi Con una diarchia Al momento Oppure una doppia diarchia Non è detto Che ci debba essere Solo la diarchia Dei tribuni Della plebe E si venne Per sicurtà Della plebe Alla creazione Dei tribuni E quelli Ordinarono Con tante Preminenzie E tanta Reputazione Che potevano essere Sempre di poi Mezzi Intra la plebe E il senato E ovviamente Alla insolenzia Dei nobili Che la disunione Della plebe E del senato romano Fece libera E potente Quella repubblica E se i tumulti Furono cagione Della creazione Dei tribuni Meritano Sommalode Queste sono frasi Eccezionale Di un grande uomo La lotta politica Ha un significato Perché la lotta politica È come dire È intrinseca È endemica Nella società E come citava Un personaggio Autorevole Di recente Adesso non ricordo il nome Questo diceva Che la storia dell'Italia È una storia di guerre Intestine Di lotta politica Ed è stampata Sempre così Io direi Che questa è veramente La grandezza Dell'Italia Proprio questa Intrinseca Litigiosità Se non dire Proprio Spirito bellico Di cui espressione Come avevo detto Anche prima È il pensiero Di Dante Di Petrarca Che sono uomini Essenzialmente politici E Il grande mito Dantesco Il grande poema Dantesco È un poema Politico Non è certamente Religioso Anche se Come dire In un certo senso È sposto Ma basterebbe leggere Il Guénon Per capire perfettamente Che lì Tutto quello che Dante Dice in relazione A certe espressioni Di carattere religioso È in realtà Un fatto politico Dante non potrebbe Che essere così Come ha interpretato In maniera Esemplare Il Carducci Quando ha detto Che Dante Era il Ghibellin Fuggiasco C'è poco da fare Anche se faceva parte In teoria Perché le espressioni Politiche Della Firenze Di allora Ci lasciano Perfettamente Indifferenti Dire che Dante Fosse un Guelfo È una pazzia Anche perché Provenendo Da una cultura Specifica Che non poteva essere Religiosa O cattolica Facendo parte Di una specifica Congrega In cui Semmai Si può parlare Di tradizione Alchemica Mai Di qualcosa Che abbia Che fare Con la religione Cattolica Fadevi D'amore Che è un superamento Ma lui faceva parte Della congrega Dei farmacisti Cioè Degli alchimisti Dire Ipotecari Nel Medioevo Significava Dire Alchimisti E se i tumulti Furono Cagione Attenzione Perché Il crogiolo Nasce Dallo scontro Feroce Perché Laddove C'era Sai che mi ricorda Pacifico D'Eramo Tu l'hai conosciuto? Ora Pacifico D'Eramo Aveva appunto Questa idea Importantissima Del ruolo Fondamentale Della Passionalità Nella lotta Politica Se c'è passionalità C'è partecipazione Laddove Non c'è Partecipazione Non c'è nemmeno Passionalità Abbiamo Un paese Smorto Come è l'attuale Dove Dei morti Di sonno Deambulano Come possono Da qualche parte Tra un ristorante E una balera E se i tumulti Furono Cagione Della creazione Dei tribuni Meritano Somma Laude Questo è Machiavelli Il nostro maestro Perché Oltre al dare La parte sua All'amministrazione Popolare Furono costituiti Per guardia Della libertà Umana Allora Noi abbiamo Questa sostanziale Riserva Che dobbiamo Tenere sempre presente Che cioè La ribellione Nei confronti Dell'abuso Della sopraffazione Siappure E soprattutto In nome Di ideologie Sostanzialmente False Come l'attuale Il pauperismo Papale Di oggi È una bugia Sostanziale E per fortuna Sono molte le persone Che l'hanno incominciata A capirlo E qui c'è il commento Di Pierangelo Catalano E di Giovanni Lobrano La secessione E le sue ragioni Il giuramento E la tribunicia Potestas Sacro Sancta La potestà Tribunicia È Sacro Sancta Secessione Nell'anno 494 A.C. La plebe romana In armi Guidata Da Sicinio Secede Sul monte Sacro Questo Non a caso Chiamato Sacro A causa Della Quirsi Del conflitto Che la appone Al cetto Dominante Dei patrizi In ogni campo Della convivenza Civile E in particolare Nella questione Del debito Ecco il punto Essenziale All'epoca Il patriziato Era costituito Come oggi Dagli usurai E mi piacerebbe Sapere da dove Venivano Questi Perché noi Potremmo fare Anche delle ricerche Sulle scendenze Di certi patrizi C'è certa gente Gira Vortica Vortica Non so mai Cambiano il nome In continuazione La quale Vede I debitori Plebei Oppressi In maniera Intollerabile Dagli usurai Foeneratores Non siamo qui A caso Giuramento Plebeo Nell'anno Seguente La plebe romana Rientra a Roma Convinta Da Melenio Grippa Della necessità Della collaborazione Tra i diversi Citi sociali Ma soltanto Dopo Avere creato Una magistratura Nuova Un magistero Plebeo Dotato Di una protezione Nuova La Sacrazio Capitis Di chiunque Lo Offenda E di un potere Altrettanto Nuovo E noi Lo faremo Quando Dovessimo Andare al potere La prima cosa È la costituzione Del tribunato Del popolo Noi chiamiamo Il tribunato Del popolo C'è bisogno Di chiamare Il tribunato Della pese Però con le stesse norme Chi offende Il tribuno Li tagliamo La testa Per Dio Come faceva Il grande Robespierre Al quale ci inchiniamo Sistematicamente Come ci inchiniamo A Machiavelli Come ci inchiniamo Amelino Grip E di un potere Altrettanto Nuovo Per la sua Configurazione Generale La potestas Sacrosancta Per il suo Fondamento Il Ius Iurandum Collettivo Plebeo Il giuramento Collettivo Quello che Simón Bolívar Fece qui Venne a fare qui Il giuramento Predittivo Per il suo Contenuto Lo Ius Intercessionis Contro le Magistrature Patrizie Di governo E lo Ius Agendi Cum Plebe E il diritto Di agire Con la Plebe Ma sono cose Eccezionali Riproporle Oggi E il tribunato Della Plebe Caio Sicinio Belluto Il più strenuo Avversario Dell'aristocrazia Di infima Nascita Educato Poveramente Così Lo descrive Dionigi Di Alicarnasso Caio Sicinio Belluto Fu il capo Della secessione Le fonti Antiche Presentano Un uomo Che emergeva Dalla massa Egli Affrontò Con forza I patrizi Con quale animo Patrizzi Ora richiamati Indietro Coloro Che avete Indotto Fuori Dalla patria E trasformato Da liberi In schiavi Questo è quanto Riporta Dionigi Di Alicarnasso Con lo stesso Animo Tre anni Dopo Contrastò Coriolano Devo consiglio Coriolano Che voleva Privare La plebe Della magistratura Appena istituita Plutarco Cloriolano Vedete Come certe cose Siano Di importanza Incredibile Hanno appena Ottenuto Una particolare Magistratura E già C'è qualcuno Che la vuole Distruggere Per cui Nei confronti Di tutti quelli Che si lamentano Che le cose Vanno a rilento Soprattutto in Italia È difficile Portare avanti Una grossa Rivoluzione E io vedo Con piacere Che siccome I francesi Non è gente Che molla Di fronte All'operazione Macronica Ricordiamoci Che Macron È un dipendente Della banca Rothschild Ed è quello Che è stato premiato Con la presidenza Della Repubblica Francese Per avere portato avanti L'accordo Tra la Bayer E la Monsanto Ricordiamocelo Se Quello è il premio Che Rothschild Ha dato a Macron Per aver Fatto Aiutato Queste due Entità Usuraie A Capito Mettersi d'accordo Per continuare Ad avvelenare Le popolazioni Del mondo E Con molto piacere Ho visto Che i gilet gialli Hanno fatto capire A Macron Che la provocazione Di dare fuoco A una Madonna Non li ha toccati Minimamente Per cui Noi Immaginiamo Che ci sarà Qualche altra Provocazione Ci sarà Qualche Islamista Che sparerà A qualcuno Questo è fuori discussione Perché se non trovano Un'altra soluzione O Sparano O danno l'ordine A la polizia E sparare A man salva Cosa che non Possono fare Perché se no La rivolta Diventa Un casino Altro che Rivoluzione Francese E allora Ci saranno Queste cose Ricordiamoci Perché c'è una spina In Francia Che è la spina Della rivolta Che per me E non vorrei Sbagliarmi Ma non mi ci sbaglio Se sono stati Costretti A dar fuoco Alla Madonna Beh Francamente Sono conciati Piuttosto male Perché la rivolta È la rivolta Vera Tanto è vero Che questi qui Non l'hanno creduto E l'hanno sfottuto Quindi Plutarco Cita Coriolano Proprio per questa ragione E Come ci parla Anche di queste cosette Qui Ci parla Plutarco La cosa importante È appunto Relativa A Alcune figure Così ad esempio Come quella Del primo console È paragonabile A quella Del primo console Ponendo argine Alla prepotenza Dei patrizi E degli usurai Quindi c'è Un'altra figura Che nasce Dalla rivolta Della plebe Che non è soltanto Le due Espressioni Del tribunato Ma c'è anche L'espressione Del primo console E qui Un altro Richiamo Che dobbiamo fare Sicuramente Nei confronti Di Napoleone Di quale Napoleone Possiamo dire Quello che vogliamo Di lui Ma Napoleone È stato Un autentico Primo console Prima ancora Di doversi Istituzionalizzare Sotto forma Di imperatore Perché doveva Accontentare Certi Certi Atteggiamenti Famelici Di certi Suoi parenti Ma a parte Quello Napoleone Resta Nella storia Perché resta Come primo console Ecco il punto Contro Contro Gli usurai E la prepotenza Dei patrizi E basta Leggere un testo Che mi è stato Regalato Di recente Bellissimo Pubblicato in Italia Nel 1932 In cui c'è Tutta una raccolta Di dichiarazioni Di Napoleone Sono veramente Impressionanti Quello che Babef A ragione Simon Bolivar Ricorderà Sicilio Tribunato Della plebe E libertà Del popolo E con questo Concludiamo Non c'è bisogno Che ripetiamo L'abbiamo già detto Altre volte Il giuramento Di Simon Bolivar Siamo qui Di fronte a lui Perché quello Che noi vogliamo Ricordare adesso È all'origine Di questa sacralità Di questo luogo Quindi è il monte sacro Tribunato Della plebe Libertà Del popolo Sembra quasi Impossibile Che un gruppo Sociale In sedizione Abbia prodotto Di getto Una tale Costruzione Religiosa Politica Giuridica Al contempo Così innovativa Complessa E poderosa Ma perché I fatti spontanei Della storia Umana Sono questi E danno La civiltà La civiltà Nasce nel momento In cui un popolo Riconosce a se stesso Come tale Come creatore Di civiltà Al contempo Così innovativa Complessa E poderosa Una magistratura Contro magistratura E quanto Ce ne sarebbe bisogno Oggi in Italia Dove noi sappiamo Perfettamente Che la L'origine Dell'attuale magistratura Risiede Nella mafia Siciliana Perché l'attuale Magistratura È stata creata Nel 1943 In Sicilia Dotata Di complesse Poderose Una magistratura Dotata Di un potere Contropotere La quale Diviene Diviene Il perno Di una costruzione Unica Nella storia La Respubblica Del popolo romano Noi non possiamo Parlare Di Respubblica Se non parliamo Di secessione Della felebe E di Menenio Grippa La Respubblica È caratterizzata Dal potere Laico E sovrano Del popolo Cioè Degli Universi Cives Il quale Entra in Relazione Di comando Obedienza Con sé Medesimo Populus In sua Potestate Noi oggi Viviamo Siamo Una pseudo Popolo Che non Ubedisce A se stesso Ubedisce A preti Finanzieri Sionisti Magistrati Mafiosi E queste Sono Le realtà Di questo Paese Quando noi Riusciremo A A Trovare Una E ci può Essere Ci sarà Ci deve Essere Una matrice Per ricostruire Il popolo E allora Noi saremo Salvi Allora Relazione Di comando Obedienza Con sé Medesimo Populus In sua Potestate Attraverso Il potere Di governo Dei magistrati Patrizzi I quali A loro volta Traducono Con un margine Necessario Di discrezionalità Gli Iussa Generalia Di tutto Il popolo A tutto Il popolo Che è Una frase Niente meno Che di Rousseau In comandi Specifici Rivolti Ai singoli Il comando Specifico Rivolto Ai singoli Ricordiamoci Di questi Punti Essenziali Questa Relazione Vitale Centrale Bionivoca Tra popolo Dei cittadini E magistrati Patrizzi Non perché Fanno parte Del patriziato Ma che sono Patrizzi In quanto magistrati Eletti Della quale Ciascun cittadino Deve sapere Potere A tempo debito Comandare E obbedire Si avvale Di un meccanismo Di cui sono parte I sacerdotes Pubblici Sacerdotes Pubblici Non sacerdote Vaticanistici Ma essa È soprattutto Garantita Dal tribunato Della plebe Se tu Hai un tribunato Della plebe Che garantisce L'onestà Intellettuale E la aderenza Alle leggi Della res Pubblica Di chi Deve gestire Praticamente Le cose Pubbliche Se tu Hai questi due È sicuro Che qualcosa Va avanti E non è Certamente Un Parlamento Di cialtroni Come sono Oggi I parlamenti In tutti i vari Paesi D'Europa E del mondo A contenere Le mire Di speculatori Prevalentemente Economico Finanziari Ma essa È soprattutto Garantita Dal tribunato Della plebe La sacrosancta Potestas Dei tribuni Plebis È garante Della libertà Dei singoli Cives Dinanzi Al potere Di governo Dei magistrati Patrizzi E al contempo Indissolubilmente È garante Dell'obbedienza Dei magistrati Patrizzi Alla volontà Del popolo Legge Pubbliche Queste sono Volontà Del popolo Anche noi Oggi in Italia Abbiamo delle leggi Che vengono Sistematicamente Ignorate E disattese Dalla magistratura Mafiosa Come tutti noi Possiamo constatare Giornalmente Dopodiché Siccome abbiamo L'amico Sivald Che deve dire La sua Qua No E che no E lui Tieni Vogliamo sentire bene La parola sacralità Mentionata più volte Dal caro Giorgio È importantissimo C'è un tempo Per le lotte C'è un tempo Per le idee Però ci deve essere Un tempo Anche per la sacralità Per la festa Anche la festa Delle parole L'annunciatore Che non a caso Si chiama Danunzio Ecco le sue parole Sacre Essere un bel pino italico Sopra un colle romano Quando la luna È colma E sentire il vento E sentire il vento Della notte Muovere le tenere cime Che rinascono In mezzo Ai vecchi aghi Insomma Dei vecchi ami Rosè Come dita Di pargoli Alza un po' la voce Essere il più alto E il più fosco cipresso Della villa d'este Dopo il capuscolo Quando la fontana Rimuove il velo Del capel venere Della sua orecchia Stilante Per ispirare Il rumore remoto Della cascata Tiburtina E palpare La grazia Della sera Con il chiaro verde Sensibile Che orla Il fogliame Funerario Essere Nel foro Lo spirito Di una cieca erba È penale E paziente Per riscoprire La fenditura Della pietra Veneranda Su cui Scalpitarono I trionfi E al fine Trovarla E far forza Con l'esile capo E spuntare E inverdire E gioire Del sole Che mai vide Alcuna cosa Più grande Di Roma Salve Mi hanno detto Di dire qualcosa Io voglio mandare Un messaggio Augurale A tutto il mondo A tutta l'umanità Perché noi siamo Una corrente vitale E nelle correnti vitali Non esiste L'individualismo Noi adesso Siamo pronti Per il grande passo Un passo in più Cambiano I segni Zodiacali Siamo entrati Nell'era Dell'acquario Sarà un periodo Caratterizzato Dal vivere locale Infatti Con internet Noi possiamo Lavorare benissimo Dalla campagna Essere in collegamento Con il mondo E pensare globale Perché grazie a internet Grazie alla tecnologia Perché la tecnologia Ha anche dei risvolti positivi Possiamo avere maggior coscienza Della casa comune Del mondo Quindi Questo periodo Che durerà 2500 anni Sarà caratterizzato Da questi due fattori Una maggior presa di coscienza Da parte del singolo I vecchi pilastri Che hanno Accompagnato La nostra storia La storia dell'umanità Fino a poco tempo fa Che erano Patria Terra La nostra religione Stanno sfumando Sta cambiando tutto È come se Il serpente Stesse cambiando La pelle Stanno emergendo Altri lavori Però Altri valori Però L'elemento Comun denominatore È l'amore L'amore Che il sole Muove le altre stelle Quindi Noi siamo pronti Al nuovo balzo E non a caso Partiamo da qui Dal monte sacro Un messaggio D'amore Per l'umanità L'augurio È che ci sia Ma sono sicuro Che ci sarà Nel futuro Una maggior coscienza Della sacralità Della vita I diritti umani I diritti umani Sono molto importanti Pian piano Grazie anche All'aiuto Della tecnologia Che ci permette Di lavorare Di meno E pensare di più E di far Maggior Maggior Introspezione Io credo Che La maggior parte Degli individui Si renderà conto Che la violenza Crea violenza Che l'unico modo Per combattere La violenza È una maggior Presa di coscienza Questa sarà L'era In cui l'umanità Prenderà coscienza Del bene comune Io con questo Visto che non abbiamo Molto tempo Chiudo Diciamo Il mio augurio Per tutta l'umanità C'è Giorgio Che vuole dire Ce sei? Niente In conclusione Devo fare una piccola nota Perché l'amico Serafino Mi ha ricordato Tre cose La prima Che ho dimenticato Di parlare Di Cola di Rienzo Che è Importantissimo Perché Cola di Rienzo Si è trovato A combattere Contro la stessa Categoria Di patriziato Che era quella Che aveva Cacciato la plebe Solo che Questa categoria Di patriziato Era di preti Dice Ma non erano loro I preti No Ma delle loro famiglie Uccivano fuori I papi Dobbiamo Dobbiamo dirlo In maniera molto chiara Papi Usurai Perché la storia Del papato È una storia Di usurai E chi non ci crede Si vada a vedere Da quali famiglie Erano presi Certi personaggi Che poi L'avevano Fatti diventare papi Questo è La prima aspetto Dice Ah ma l'ultimo Questo qui di oggi È un gesuita E beh Allora Ancora peggio Preferisco Un papa Che viene Dalla grande famiglia Dei medici Che non Un papa Che viene dal gesuitismo Più feroce Più bestiale E altre due cose Da ricordare Il centenario Di Evita Peronna E il centenario Importantissimo Dell'inno a Roma Di cui se ne parlerà sicuramente La notizia girerà Ancora su internet Dopodiché Se non avete niente Ad aggiungere Senatus populusque romanus Laudetur sit Assieme a Priapo Pace bene A presto Ancora su internet Allora Grazie a tutti